Sono terremoti che conosciamo, sono terremoti molto simili a quelli che ci sono stati a San Giovanni Puglia nel 2002 e a Potenza nel 1990, sono terremoti particolari rispetto a quelli appenninici, più profondi che avvengono, sono generati da faglie che noi chiamiamo trascorrenti, quindi che muovono i due blocchi di roccia adiacenti da faglia in senso orizzontale e non sappiamo nel dettaglio qual è la struttura sismica del Molise, perché queste faglie sono profonde e sono molto difficili da indagare, ma ne conosciamo le caratteristiche principali. Quello che non è chiaro e quello che non sapremo mai naturalmente è cosa ci aspetta nelle prossime ore e nei prossimi giorni e anche abbiamo dei dubbi che in altre zone d'Italia non abbiamo su qual è la magnitudo massima a cui potrebbero arrivare questi terremoti, perché la storia sismica di quella regione è molto scarna, essendo una regione poco abitata noi non sappiamo molto su quello che è successo in passato. Siamo con il sindaco Mario Bellotti, sindaco di Guglionesi, sindaco Guglionesi ha avuto due emergenze, possiamo dire ieri, nella giornata di ieri, prima quel violento acquazzone con tanti disagi e poi il terremoto, com'è la situazione? La situazione è veramente critica, anche perché appunto come ricordava lei c'è stato prima il diluvio che ha causato frane e ha divelto tante strade e poi a fine giornata questo terremoto, questa forte scossa ripetuta con un'altra scossa di lì a poco tempo che ha messo nel panico tutto il paese e questa mattina stiamo verificando lo stato delle abitazioni private e anche e soprattutto di quelle pubbliche, anzi si prevede la chiusura delle scuole perché pare che abbiano dei danni rilevanti, stiamo verificando adesso con i tecnici e con i vigili del fuoco. È durata oltre un'ora la riunione del Comitato per la sicurezza che si è svolta in mattinata in Prefettura a Campobasso per fare il punto della situazione dopo le due scosse di ieri di magnitudo 5.1 e 4.4 con epicentro Monte Cilfone. Al vertice erano presenti il governatore Toma e il responsabile della protezione civile regionale Gianrusso, l'ANAS, le forze dell'ordine che sono impegnate sul territorio. La situazione ha fatto sapere il governatore Toma al termine dell'incontro e sotto controllo. Sono in corso sopralluoghi nei comuni vicini all'epicentro anche se, ha dichiarato Giuseppe Gianrusso, la situazione più critica sembra essere quella di Guglionesi dove c'è un fabbricato disabitato che si sta inclinando pericolosamente su alcune abitazioni vicine. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la situazione che riguarda la viabilità, in particolare la Bifernina. Il viadotto che sovrasta la diga è stato chiuso al traffico ieri notte a scopo precauzionale. Al termine della riunione del Comitato della Sicurezza è stato deciso che resterà ancora chiuso per consentire verifiche e sopralluoghi approfonditi sui piloni dell'intero viadotto, il Molise 1. Ma a far scattare l'allarme erano state le condizioni di un altro viadotto di pochi metri che si trova tra i comuni di Palate e Guardia Alfiera. Lì, ha detto Gianrusso, è saltato il terrapieno. Ci sono evidenti segni di piccoli cedimenti che hanno indotto l'ANAS a chiuderlo. Verifiche e controlli, è stato detto nel corso della riunione in prefettura, sono stati eseguiti dai tecnici di Molise Acque, anche alla diga, in particolare al potabilizzatore e alla condotta di adduzione. In questo caso non sono state rilevate criticità. In queste ore anche la provincia di Campobasso, impegnata nelle verifiche sui 1.500 chilometri di strada di propria competenza, non solo. Il presidente Battista, che ha anticipato il rientro dalle vacanze per seguire da vicino l'evolvere della situazione, ha fatto sapere che dopo le strade i controlli interesseranno le scuole di competenza. Intanto il presidente della provincia di Campobasso Battista ha chiuso per verifiche la scuola di Guglionesi, Termoli, Campomarino, Larino e Montenero di Bisaccia. Il ministro dell'istruzione Bussetti intanto ha chiesto all'ufficio scolastico regionale di attivare un apposito monitoraggio per accertare eventuali danni alle scuole e altre criticità legate all'avvio del nuovo anno scolastico. Il MIUR, ha detto il ministro, è pronto a dare il proprio supporto necessario.